ciao ragazzi da quanto tempo studiate l'inglese sei mesi tre anni una vita intera vorreste impararlo un pochino più veloce ma non sapete come fare con internet non è stato mai così facile imparare una lingua oggi vi daremo cinque idee per accelerare il tuo apprendimento guardare i film in inglese con i sottotitoli in inglese la prima è sicuramente la più piacevole oggi abbiamo quasi tutti un account per vedere film in lingua originale con i sottotitoli fallo se sei proprio principiante potrebbe andar bene mettere i sottotitoli in lingua italiana ma se sai già qualcosa dell'inglese metti i sottotitoli in inglese questo vi serve per collegare il suono alla parola cerca una serie tv che ti piace e vedrai che il tuo inglese migliorerà quasi da subito fare un conversation exchange con i social è facile conoscere nuove persone con i nostri stessi interessi e non è detto che queste persone parlano la nostra stessa lingua è proprio in questi momenti che puoi mettere in pratica il tuo inglese no non preoccuparti se il tuo livello non è proprio altissimo la persona dell'altra parte capirà comunque vedrai che con il tempo imparerai ad essere più fluido ed anche a commettere meno errori meglio ancora se riesce ad avere una conversazione dal vivo in quel caso sarai costretto a praticare il tuo inglese studiare un po ogni giorno fare esercizi online fare 15 minuti al giorno di esercizi aiuta parecchio nell'apprendimento di una lingua ci sono tantissime app che ti possono anche aiutare non voglio fare nomi ma voi potete scrivere nei commenti sotto mettere un'etichetta a ogni cosa in casa questa idea può sembrare un po buffo e non funzionerà mai se avete dei bambini piccoli in casa ma un modo per imparare delle parole in inglese è mettere un'etichetta a tutto in casa al tavolo al frigo alle sedie dove vuoi tu così facendo ogni volta che vedi qualcosa vedrai anche la parola in inglese vale dire a questo punto che ogni volta che vedi una parola la devi dire ad alta voce anche per memorizzarla bene rispondere ai blog e video online se leggi un blog in inglese o segui qualche youtuber in inglese lasciali un commento più scrivi più facile diventa parlare a proposito se hai altri modi per imparare una lingua lasciali nei commenti sotto numero 5 iscriversi a una scuola maes scusate ma ora faccio un po di pubblicità se vuoi imparare meglio l'inglese iscriviti a una scuola maes i corsi d'inglese da my english school sono progettati per farti raggiungere i tuoi obiettivi personali scegli tu i giorni orari e puoi ripetere ogni lezione quante volte vuoi lasciati guidare dai nostri insegnanti madrelingua alla scoperta dell'inglese noi stiamo producendo tanti contenuti utili e free per aiutarti ad imparare l'inglese con il nostro metodo cerca quelli più adatti a te nel nostro canale e iscriviti per non perdere i prossimi thanks for watching and see you next time